Vince comodamente il Lanciano contro il Modena, autentica bestia nera dei frentani che nei precedenti quattro incontri in serie cadetta non erano mai riusciti a battere. 2-0, netto, pulito, cadenzato da altrettante reti, una per tempo con l'acuto di Gatto al 27esimo del primo tempo e il raddoppio istantaneo di Tiamma al primo minuto della ripresa. Roberto D'Aversa si affida all'esperienza in tutti i reparti confermando la linea di difesa titolare contro il Catania con Aquilanti e Mammarella a presidio delle corsie basse e il duo Tröst-Ferrario centralmente. A metà campo Paghera in regia con la solidità e il ritmo di Dicecco. In avanti tocca al Tris piccolo, Tiamma Gatto, il Modena qualche problema in difesa, out Cionec e a metà campo Novellino preferisce Signori a Nizzetto. Per il resto è il 4-4-2 annunciato. Prima delle ostilità la lettura del giuramento realtà e rispetto, mentre dalla curva sud di casa uno striscione in memoria di Guido e il generale due tifosi frentani che non ci sono più. Il primo acuto della contesa è Frentano, è ad opera di Mame Babatiam al quinto che di potenza prova a guadagnare spazio ma la sua conclusione è alta. Granocce del Modena prova a superare Tröst al settimo minuto, balapalla, viene messa al centro dell'aria e catturata in presa bassa. Piccolo mette un invitante pallone al centro dell'aria per l'impatto di testa di Gatto, sotto porta siamo al dodicesimo ma la conclusione dell'attaccante di Trebisacce è alta. Al ventitresimo conclusione da fuori area di Ferrari ma Nicolas fa buona guardia stoppando senza grossi problemi la sfera. Fiammata del Lanciano al minuto 25 contro piede Frentano, pallagatto che lancia piccolo eludendo la retroguardia canarina ma l'estremo difensore della squadra del Modena si salva in qualche modo. E' questo il preludio al gol perché nell'azione conseguente Aquilanti da rimessa laterale cede la sfera piccolo che gliela restituisce. La mette al centro dell'area dove vastola la prolunga di testa e qui c'è uno scatenato Gatto che prima tenta la conclusione, miracolo di Pinzoglio e poi sulla ribattuta la butta in rete. Al trentaduesimo si rivede il Modena con Schiavone che prova a sorprendere Nicolas su calcio di punizione toccata dalla barriera ma il portiere verde oro fa buona guardia. Al quarantesimo è piccolo che si divora il gol del possibile 2-0 a tu per tu con Pinzoglio sparando la sfera alta sulla traversa. Tra primo e secondo tempo da versa non cambia nulla, pronti via il Lanciano alla quarta ingranata in 30 secondi trova il bis. Lo zampino vincente ce lo mette Gatto ma il colpo del 2-0 è di Tiam che raddoppia. Lanciano a trazione anteriore che non si accontenta del doppio vantaggio e continua ad attaccare. Novellino esaurisce i cambi quasi subito in 9 minuti, butta nella mischia Marsura, Luppi e Marzorati. E al diciassettesimo la rasoiata di Schiavone non sortisce gli effetti desiderati. Ancora Lanciano questa volta con la doppia conclusione da fuori aria di piccole d'Aquilanti e il tapin vincente mancato di Gatto di un nulla. Ci prova il Modena nel finale ma senza una trama predefinita ma affidandosi solo a conclusioni personali. Brivido al quarantunesimo con una conclusione potente di Schiavone ma Nicolas e Mammarella salvano il risultato. È però troppo tardi per il Modena e invece è presto per il Lanciano. È presto perché inizia nel migliore dei modi questa nuova stagione, la stagione di Roberto D'Averzi.